ciao a tutti in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questi simpaticissimi vestitini in cotone è ottimo modo anche per usare avanze per realizzarli io ho usato cotone cablet numero 5 di lana gatto e ho usato uncinetto 1,75 quindi poi mi serviva un ago e filo per attaccare la rosalina e certamente forbici allora l'idea principale è fare le bomboniere certamente se viene usato il cotone più sottile 12 o 16 è colore adatto e viene certamente molto molto più piccola poi si può usare come elemento decorativo come portachiavi oppure appendere sulla chiusura lampo di una borsa ma il modo che ho deciso di usare io è riempire di un sacchetto trasparente con un purpuri profumato metterlo dentro e appendere dentro armadio se vi piace questa idea rimanete con me allora per iniziare ho avviato 16 catenelle adesso le raddrizzo e chiudo il cerchio unendo prima e ultima catenella con una maglia bassissima adesso faccio due catenelle che è uguale a una maglia alta e in ogni catenella del nostro cerchio noi dobbiamo fare due maglia alti quindi questa è una faccio un'altra e così vado avanti entrando in ogni catenella facendo due maglia alti in totale devono essere 32 compreso questa queste tre catenelle quindi due mali alte in ogni catenella e fino alla fine del giro ho fatto 32 mali alte e adesso chiudo il giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro e faccio una maglia bassissima adesso possiamo iniziare a fare il secondo giro il secondo giro noi dobbiamo fare in ogni male sottostante una maglia alta più una catenella quindi facciamo all'inizio io faccio tre catenelle che uguale a una maglia alta che più una catenella quindi sarebbe primo elemento e faccio subito una maglia alta e una catenella nella maglia successiva una maglia alta e una catenella e così vado avanti a terminare il mio giro in totale dobbiamo avere di nuovo 32 mali alte ho fatto 32 mali con una catenella in mezzo adesso faccio un'altra catenella qui e posso chiudere il giro io chiudo il giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro quindi tiro con una maglia bassissima faccio un'altra catenella e taglio il filo taglio il filo possiamo anche nascondere questa codina adesso io prendo filo di un altro colore mi aggancio dove a piacere diciamo supponiamo qui faccio lo blocco il filo che adesso faccio in questa maniera faccio sei male alte io devo entrare con male alta sopra una maglia alta e in mezzo qui quindi io le devo fare sei entro dentro prima che la seconda entro nello spazio qui seconda terza sopra quarta entro qui quattro quinta sopra cinque e sesta entro qui ho fatto sei mali alte entrando sopra una maglia alta e in spazio in mezzo adesso devo saltare otto ma le altre una due tre quattro cinque e sei sette otto cerchiamo la nonna qui la tengo con dito e sopra questa non ha male alta io faccio una male alta io in questa maniera come abbiamo fatto qui in precedenza le devo fare 16 quindi prima ho fatto aspetta qui forse ricontrolliamo una due tre quattro cinque sei sette otto nove e qui importante di non sbagliare altrimenti poi non ci ritroviamo allora io le devo fare adesso 16 prima la seconda faccio il mezzo e li faccio in questa maniera 16 ho fatto 16 mali alte adesso saltiamo di nuovo otto mali alte quindi una due tre quattro cinque sei sette otto e nella nonna noi facciamo una maglia alta e li facciamo uguale come abbiamo fatto prima vediamo bene ci devono uscire 10 entrando sopra una maglia alta e in mezzo e così dobbiamo fare dieci ho fatto 9 mali alte e volevo prestare vostra attenzione che la decima male alta la faccio proprio in questo spazio dove ho iniziato il giro anzi che dove ho cambiato il filo quindi faccio decima male alta che e chiudo il giro entrando qui sopra prima male alta girando e facendo una maglia bassissima ok adesso possiamo iniziare il giro successivo quindi io faccio 3 catenelle una due tre fatto salto una maglia alta e sopra la maglia alta successiva io faccio una maglia bassa io faccio una maglia bassa e così andiamo lavorare creando archetto di 3 catenelle quindi ripeto 3 catenelle una due tre salto la maglia alta successiva e nella prossima faccio una maglia bassa e così vado avanti a lavorare fino alla fine del giro saltando una maglia alta e nella prossima faccio una maglia bassa ho fatto il giro di archetti e chiudo il giro in questa maniera faccio una catenella e faccio una maglia alta qui all'inizio del mio lavoro fatto adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 giro il mio lavoro e questo giro di archetti li facciamo sul rovescio del lavoro quindi ho fatto 3 catenelle e adesso entro sotto archetto e faccio una maglia bassa e così vado a lavorare questo giro di archetti sul rovescio del lavoro e ultimo ultimo passaggio come abbiamo fatto nel giro precedente una catenella e una maglia alta io entro qui all'inizio del lavoro e faccio una maglia alta ok adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 giro il mio lavoro e faccio di nuovo un giro di archetti sul dritto del mio lavoro quindi 3 catenelle e sotto archetto una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa e così fino alla fine del giro e come abbiamo terminato nel giro precedente io faccio una catenella e una maglia alta all'inizio del giro ok adesso possiamo iniziare il prossimo giro quindi io faccio 3 catenelle e questo come il nostro primo archetto e quindi io sotto qui faccio una maglia alta ok questo solo all'inizio poi finiamo alla fine del giro e nel ogni archetto successivo noi dobbiamo fare 3 mali alte 1 2 e 3 e così andiamo a riempire ogni nostro archetto con 3 mali alte ho riempito 3 mali alte sopra ogni archetto e come ricordiamo che all'inizio del giro abbiamo fatto 3 catenelle e solo una male alta quindi dobbiamo terminare anche questo archetto io faccio ultima male alta qui ok e adesso chiudo il giro entrando nella terza catenella dell'inizio e faccio una maglia bassissima e quindi anche qui abbiamo creato 3 mali alte ho fatto 3 catenelle e giro il mio lavoro sul rovescio e quindi faccio una maglia alta una maglia alta successiva sono due e faccio una catenella e la terza la facciamo dopo e vi spiego questo giro consiste 3 mali alte in ogni male alta sottostante più una catenella che vi faccio vedere adesso quindi ho fatto una catenella faccio una 1 2 e 3 dopo aver fatto 3 mali alte io faccio una catenella che fatto e continuo andare avanti in questa maniera una catenella poi 3 mali alte senza catenella 1 2 e 3 e una catenella e così io devo andare avanti facendo gruppetto da 3 mali alte e facendo una catenella qui qui non salto nessuna maglia e andiamo avanti a riempire il nostro giro così ho fatto l'ultimo gruppetto di 3 catenelle di 3 mali alte scusate adesso io faccio una catenella e come ricordiamo all'inizio abbiamo fatto due e quindi mi manca ancora ultima catenella quadri a riempire con una maglia alta quindi io faccio ultima maglia alta e chiudo il giro entrando nella terza catenella ok e tiro giro lavoro giro lavoro sul dritto del lavoro ok e faccio quindi io faccio una catenella una catenella una catenella giro lavoro sul dritto e in questi spazi che si sono create tra gruppetto di 3 catenelle io faccio un ventalietto di 4 mali alte quindi getto il filo e faccio 4 mali alte in questo spazio 2 2 3 3 e 4 ok fatto e adesso nella terza male alta del gruppetto di 3 io faccio una maglia bassa quindi entro qua dentro e faccio una maglia bassa e così andiamo avanti a lavorare in questo spazio tra gruppo di 3 catenelle male alte faccio ventalietto di 4 mali alte 1 2 3 e 4 e nella maglia in mezzo la seconda qui io faccio una maglia bassa e così andiamo a terminare il giro ho fatto ultimo giro di ventaliette e finisco il mio giro entrando qui all'inizio da dove sono partita e faccio una maglia bassa ok poi entro ancora una volta tiro il filo faccio una maglia bassissima e si può chiudere il nostro lavoro taglio il filo taglio il filo e nascondo la codina poi ho deciso di applicare un fiorellino una roselina una roselina in raso che si trovano in mercerie pronta così e poi vi faccio vedere come sarà il risultato finale ecco il risultato finale così si presenta il mio mini vestitino adesso io uso questo gancetto di plastica che di solito noi buttiamo quando compriamo le calze oppure le mutande nei negozi e lo metto come un appendino ad accappane ecco qua è questo il risultato spero tanto che questo video vi è piaciuto e alla prossima ciao ciao